prova 1 2 3 prova sono antonio lanzillo art director di damiano latini strada facendo da bambino giocavo con il lego e oggi finalmente sono un designer idea intuizione e genialità oggi sicuramente sarei un barman la biografia di steve jobs innovazione di prodotto di processo strategica mi ispiro ai grandi maestri del design ea chi pensa fuori dagli schemi la panchina e lounge con la quale ho vinto nel 2020 il compasso d'oro conosco damiano detto il capitano da più di dieci anni ultimamente ci siamo incontrati al salone mi ha chiesto di diventare al director dell'azienda e abbiamo iniziato una rivoluzione che non vediamo l'ora di mostrarvi al prossimo salone del mobile un'azienda fatta di persone dinamiche in cui la passione per quello che si fa è fondamentale e per un creativo lavorare in un contesto del genere il massimo il nostro obiettivo è quello di fare rumore di contribuire alla crescita del brand damiano latini e di contribuire al successo del design italiano nel mondo